Pranam Sarguru, la fede sposta le montagne. Cosa, signora? La fede sposta le montagne, come hai detto tu. Non spostare questa montagna, ok? Ma congela anche la mente. Quindi, dove tracciamo la linea? E abbiamo bisogno di fede per ogni cosa. Per favore, prendetevi cura di questa signora. Non voglio che sposti questa montagna da nessun'altra parte. Sarguru, starò con la montagna, solo qui. Le persone che visitano l'ashram, a volte le incontro da qualche parte, vengono a dirmi, che bel posto che hai creato. Io continuo a dire loro, non ho fatto le montagne. Perché quello è l'aspetto più bello dell'ashram, solo le montagne. Quindi non spostarla, per favore. Spostare una montagna è un crimine. In molti modi, la fede è stata un crimine su questo pianeta. Il peggior tipo di crimine è accaduto in nome della fede. Sì. Spostare una montagna è decisamente un crimine. Tu puoi spostarti da qualche parte. Non spostare la montagna. Quindi, può spostare le montagne, ma congela la mente di sicuro. Quando diciamo fede, abbiamo completamente frainteso cos'è la fede. È diventata un sistema di credenze. Credi in qualcosa e pensi di essere in una qualche fede. Il modo in cui la parola fede viene usata oggi è un certo insieme di credenze è una certa fede. Un altro insieme di credenze è un'altra fede. In questo contesto, questa citazione. Se credi a qualcosa, rigidamente, o perché sei nato in quella cultura, o qualcuno ha davvero lavorato su di te, o qualche altra compulsione ti ci ha convinto, nel momento in cui credi ci siamo, allora non c'è bisogno della tua mente. La mente è uno strumento per l'esplorazione, non per trarre conclusioni. Purtroppo la maggioranza usa la propria mente per trarre conclusioni. La mente non serve a trarre conclusioni. È uno strumento per l'esplorazione, affinché tu possa continuare a osservare la vita in modi sempre più profondi, modi più profondi di esperienza e conoscenza. Questo è il significato della mente. Se devi solo trarre conclusioni, non hai bisogno di una struttura mentale così complessa. Non ne hai bisogno. Ora, la malattia del dubbio e del sospetto, cerchi di risolverla con la fede. No. Devi solo affinare la tua logica. Devi affinare la natura della tua mente. Devi capire che c'è un modo di stare in questo mondo senza prendere nessuna posizione. ecco perché le posizioni, le posizioni yoga, capisci? Per contorcerti in questo modo, quell'altro modo, per capire che non voglio prendere nessuna posizione particolare nella mia vita. Non sono bloccato in questo modo o quell'altro. Voglio conoscere la vita da ogni possibile direzione. Ogni possibilità che questa vita è, desidero conoscere mentre sono vivo. Se questo deve accadere, hai bisogno di una mente flessibile. Una mente che non ha preso posizioni. Una mente che non si occupa di credere o non credere a qualcosa. Vedi, non pensare che non credere sia un'opzione. Credere e non credere non sono due cose diverse. Sono credere positivo o credere negativo. Ecco cosa sono. Due modi diversi di credere. Il credere e non credere. Quindi non stiamo parlando di fede contro ateismo. Credere contro non credere. No. Stiamo parlando di perché non puoi imparare a non prendere una posizione su niente. In questo momento, per condurre una particolare attività, prendiamo posizioni. Ma non c'è bisogno di prendere posizioni per vivere. Per essere vivi qui. Se vuoi conoscere la vita, non dovresti prendere nessuna posizione o opinione riguardo a nulla. Nel momento in cui formi un'opinione, significa che non sei aperto a nient'altro. Non è così? Che si tratti di una persona, o di te stesso, o della vita attorno a te. Non formare alcun tipo di opinione o conclusione. Conclusione significa morte. Sì. Vita significa nessuna conclusione. Stai osservando. Invece di affinare la tua visione, stai traendo una conclusione, perché la conclusione porta a una certa certezza. Porta a una certa sicurezza. Nel momento in cui credi in qualcosa, sei sicuro. La sicurezza senza chiarezza è un disastro. È meglio vedere chiaramente, piuttosto che semplicemente credere in qualcosa. Se credi in qualcosa, questo ti dà sicurezza e a volte funziona. Purtroppo. Ne abbiamo parlato costantemente. Anche se vuoi attraversare una strada, ciò che ti serve è chiarezza di visione, non sicurezza. La sicurezza può uccidere. Se il traffico non è molto, funziona. Il problema è tutto qui. Sì? Il traffico non è molto e non è veloce. Allora funziona. E ora che pensi che funziona, lo applichi ovunque. Verrai investito. Quindi non ti serve sicurezza. Se semplicemente rinunci al tuo bisogno di sicurezza, stai bene stando qui senza sapere niente. In realtà non sai niente. Per favore, osserva questo. Non sai davvero niente in merito alla natura di questa esistenza. Non è così? Sì o no? Non sai quando questo intero sistema solare cadrà a pezzi? Forse è domani mattina. Lo sai? Sai se cadrà a pezzi domani mattina oppure no? Lo sai? Non sai quando morirai. Non sai quando succederà. Ma va bene. Ma se sei quel tipo di mente che cerca la fede, conosci ogni cosa non solo qui, oltre la morte dove andrai, che tipo di sistemazione otterrai là, sai come funziona. questo tipo di conoscenza è ciò che deve sparire. un'ignoranza che è consapevole e riconosciuta da te stesso, che sono ignorante, è uno stato molto più potente e profondo di una conoscenza, che è frutto delle tue conclusioni. hai conclusioni su ogni cosa e ogni persona. Provate questa semplice sadhana nella vostra vita. Tutti voi. qualunque conclusione abbiate su voi stessi, sulle persone intorno a voi, sulle situazioni intorno a voi, abbandonala stasera. domani mattina svegliati e guarda tutto con occhi nuovi. Fallo semplicemente ogni giorno. Guarda almeno se riesci a mantenerlo per la prima ora in cui sei sveglio. Vedrai. Ci vorrà tanto lavoro. Capisci? Ci vorrà tanto lavoro. 24 ore del giorno per vedere tutto con occhi nuovi. Se guardi tutto con occhi nuovi, non ti perderai una sola possibilità. Ogni cosa è viva per te. Dove la gente non vede nulla, tu vedrai ogni tipo di cose. Dove le persone vedono problemi, tu vedrai possibilità nella vita. Ma nel momento in cui concludi, se trai conclusioni e le concretizzi e poi le fai avvallare dal cielo, allora chiami questo fede. L'ignoranza avvallata da una grande autorità non diventerà verità. Questo è il problema più grande. Che la gente pensa che l'autorità sia la verità. No. La verità è l'unica autorità nella creazione in questa esistenza. La verità è l'unica autorità. La verità è l'unica autorità